Sulla raccolta firme, come Calp siamo stati tra i primi firmatari proprio perché, come dire, noi è anni che denunciamo, guardate che c'è un aumento di spostamenti di armi, abbiamo provato a lanciare qualche campanello d'allarme, in qualche fase siamo riusciti anche di fatto a bloccare quelli che erano gli spostamenti di armi, abbiamo fatto esposti perché c'è anche mancati rispetti di leggi tuttora in vigore, come la 185 del 90, norme di sicurezza bypassate in ambito lavorativo proprio perché devono passare queste armi, c'è tutto, come dire, un mondo, tra virgolette, che viene meno quando l'interesse economico la fa da padrona. Per fare un esempio, noi come portuali negli anni abbiamo sempre richiesto il riconoscimento della categoria all'interno dei lavori usuranti proprio perché per il tipo di lavoro pesante, per la tipologia di turnistica che un lavoratore portuale porta avanti nella sua vita lavorativa, per la pericolosità che ha quel tipo di lavoro, abbiamo sempre formulato richieste ai vari ministeri, agli enti, le risposte che ci sono sempre state date, niente, cioè non ci sono i soldi per far sì che ci sia questo che pensiamo a meno. Però poi cosa è successo? Che con lo scoppio della guerra, appunto, il governo Draghi ha incominciato a fare il ragionamento di portare al 2% del PIL la spesa pubblica per quello che è il comparto militare, ma è ovvio che la coperta, essendo corta, se tu i soldi li prendi, anzi li sposti, aumentando quella che è la spesa militare, vuol dire che te li stai spostando e togliendo risorse dall'istruzione pubblica, la sanità pubblica, il welfare state, nel senso, tutto quello che è la spesa viva per far sì che una società sia sana e vada avanti. Ora, se ricordavi prima il reddito di cittadinanza, quello che è accaduto in quel contesto lì è proprio quello, cioè hanno tolto 27 miliardi, mi sembra, dal reddito di cittadinanza e hanno spostato 25 miliardi per la spesa militare. È proprio stato fatto un furto, si può dire, alla società per dare una mano al comparto militare che in Italia si chiama Leonardo, Fincantieri, Beretta, tutte le grosse aziende che a oggi sono anche le uniche in positivo rispetto all'andamento, diciamo, economico delle varie aziende. E quindi questa roba qua ci porta a dover dare delle risposte. È ovvio che la raccolta firme è un modo, perché è un modo che bisogna mettere in campo, sperando che, e anzi, ci sia la sensibilità da parte di tutti di andare a firmare, appunto, mettere la firma su quella proposta di legge lì, ma servono anche mobilitazioni, perché deve esserci, come dire, un fronte unico che contrasti le logiche che stiamo vedendo oggi in termini di spostamenti nella guerra in Ucraina, in questo caso. A fare anche, come dire, a peggiorare la situazione, anche il fatto, secondo noi, che l'Italia stia all'interno della Nato, questo non fa un gioco forza rispetto a quello che sono state, diciamo, le politiche dell'Italia negli ultimi 50 anni, perché per stare all'interno della Nato devi garantire, come dire, tutta una serie di spese economiche, ma anche di, come dire, spostamenti di mezzi militari, come stiamo vedendo, vicino alla Polonia, e questo fa sì che anche la questione che l'Italia stia all'interno della Nato succhi energie e risorse al PIL italiano, che ovviamente vengono tolte, come dicevamo prima, dal mondo del lavoro, dal welfare state, dalla pubblica istruzione e dalla sanità pubblica, in tutto questo stiamo cercando di creare questo affronte contro la guerra, cioè con la mobilitazione del 25 di febbraio che abbiamo fatto a Genova abbiamo cercato di intanto chiamarla con parole nette per non passare come i soliti pacifisti con l'elmetto, come abbiamo visto con le piazze, con appunto di nuovo CGL, Cisle Will, PD di appoggio, con Megascherbi, con Zelensky, che parlava alle masse, dicendo vogliamo la pace ma vogliamo che ci date i patriot o le armi per massacrare e annientare i russi. E quindi con delle parole nette, cominciando a ragionare su come è nato il conflitto in Ucraina, quindi partendo da un ragionamento dal 2014, finendo anche in un ragionamento del fatto che l'Italia sta all'interno della Nato, abbiamo chiamato quella piazza lì, che è stata una piazza veramente partecipata, hanno partecipato circa 10.000 persone dove le abbiamo portate all'interno del porto, perché volevamo anche rompere quel muro ideologico che si era creato attorno al porto, dove viene detto che i porti fanno parte della città, ma invece sono questa zona grigia dove non vengono rispettate, come dicevo prima, leggi, norme di sicurezza e quant'altro per favorire appunto lo spostamento di armi e l'economia legata al comparto militare. Quindi partendo da lì appunto noi appoggiamo ogni iniziativa che vada a contrastare quelle scelte politiche ma anche quelle logiche appunto guerrafondai che oggi ci vedono in prima linea, si può dire, perché con l'arrivo di Zelensky, oggi come intendo ci vede come Italia, abbiamo visto Zelensky andare a stringere mano a destra a banca al governo italiano, quelli sono, come dire, dichiarazioni belle e palesi, quindi partendo dalla mobilitazione, arrivando alle proposte di legge, abbiamo partecipato alla Marcia della Pace indetta da Michele Santoro, per dire una che è molto lontano politicamente da noi, quell'approccio politico, no, noi come calpi ci riteniamo antimilitaristi, non pacifisti, però è una fase che tutti questi pezzi bisogna che si mettano assieme per cercare di contrastare appunto queste scelte qua politiche. Per fare un esempio, il fatto che Corsetto, fino a prima che si insedasse in governo il governo Meloni, era uno dei maggiori lobbisti della Leonardo, che pare abbia percepito tra il 2021 e il 2022 quasi 600 mila euro di bonus dalla Leonardo, e oggi sia all'interno del Ministero della Difesa, cioè sia il Ministero della Difesa, Corsetto, oltre ad esserci, come dire, un conflitto di interessi bello grosso, ti dà anche, come dire, l'immagine di come ci siano dietro degli interessi più economici che degli interessi politici reali, cioè il Corsetto che sta lì e continua a portare la Melonia, a salire su l'F-16, l'F-35, piuttosto che alla Festa degli Alpini, sono tutti piccoli segnali di come si voglia andare proprio in un governo di guerra palese, di guerra attiva, con tutto che però, come dire, le ricadute su di noi sono ben più alte di quelle che sono poi i guadagni reali, che determinate scelte politiche, come quelle che dicevo prima, abbiano reale risposta poi sulla quotidianità di chi lavora e dei cittadini. Quindi noi ci auguriamo che in qualche maniera, con la proposta di legge e con, come dire, con quel tipo di attività si riesca anche a contrastare quelle che sono queste scelte scelerate che stiamo vivendo oggi. Allora, lo sciopero del 26 maggio è indetto unicamente dall'Unione Sindacale di Base, proprio per contrastare quelle che sono le politiche, diciamo, legate al mondo del lavoro o comunque che influiscono nel mondo del lavoro, a partire dagli ultimi 30 anni. Nel senso, il fatto che non ci sia più una scala mobile e che adegui un salario a quella che è l'inflazione che viviamo quotidianamente, è uno dei problemi, diciamo, per la quale un lavoratore, pur andando a lavorare, è sottopagato. Quindi una delle richieste che vengono fatte, appunto, con lo sciopero del 26 è un aumento di 300 euro, diciamo, sulla paga base netti, proprio per andare a contrastare quella che è l'inflazione oggi, no? Quindi all'8%, più o meno facendo due conti della serva, diciamo, con 300 euro, che, diciamo, andrebbero, come dire, poi anche messe in atto altri tipi di politica, tipo i canoni calmirati, ad esempio, che è l'altra richiesta che viene fatta, si potrebbe andare, come dire, anzi, uscire da questo impoverimento dei lavoratori. Cioè, tende in atto una politica di aumento salariale reale sul netto e non con i bonus, diciamo, come sono stati fatti fino a oggi, dove comunque te devi mettere dei soldi per poi avere, diciamo, un ritorno economico da quella spesa per via dei bonus. Qua servono soldi, soldi per andare avanti. Quindi, con i 300 euro netti è una delle, diciamo, richieste, e i canoni calmirati. Con il canone calmirati si intende i tetti ai beni di prima necessità, agli affitti e a quello che è, diciamo, il mondo dell'energia, quindi l'acqua, la corrente, il gas, anche perché in questo periodo, con lo scopio della guerra, soprattutto, si è vista una massiva speculazione rispetto a quelli che sono, appunto, i beni di prima necessità, con la scusa della guerra. Il costo del grano è aumentato di X euro per chi lo produce, quindi un chilo di pasta, se l'anno scorso costava un euro, quest'anno costa due euro. Addirittura abbiamo visto alcuni pacchi di pasta, no? che, seppur mantenendo lo stesso costo, hanno diminuito la grammatura della pasta all'interno, proprio per andare a speculare su quello che è il, diciamo, il momento attuale, la fase attuale legata alla guerra. Quindi, il 26 ci sarà questo sciopero generale, dove l'avvio di una fase, diciamo, di lotta, comunque, di mobilitazione, perché non vuole essere legata unicamente a quella giornata lì, ma, come dire, fa parte di un percorso avviato già da tempo, con lo slogan che abbiamo lanciato, con abbassate le armi, alzate i salari, quindi è già da circa un anno che noi portiamo avanti una serie, una campagna, diciamo, di mobilitazioni. Una tra queste ha visto, anche interessato, un passaggio al porto di Genova, il 25 di febbraio, dove avevamo indetto quella manifestazione, con parole nette e chiare, soprattutto su quella che è il conflitto in Ucraina oggi, e questa del 26, diciamo, è comunque un altro passaggio rispetto a tutte le nette che abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi, noi su Genova faremo un blocco del porto, sperando di riuscirci, perché è un po' ambizioso, è di circa otto ore, cioè, quindi, il Varco Etiopia lo manterremo dalla mattina al pomeriggio, proprio perché è uno di quei punti, diciamo, cardine, diciamo, del capitalismo oggi, no? Oggi lo spostamento di merci e la consegna del taglio, quindi, partendo dall'industria, passando attraverso la logistica, i porti, e poi la consegna del taglio, è il nervo, diciamo, del capitale oggi. Mentre prima era la produzione della Fiat, della 500, per fare un esempio, che creava economia per quel determinato paese, per l'Italia, in questo caso per la Fiat, oggi invece è lo spostamento della merce, quel momento in cui si crea un'economia nazionale. Quindi pensiamo che bloccando, diciamo, per X ore quella che è l'economia, si retti un danno reale al mondo del capitale o comunque a quello che ne concerne in termini di Stato, quindi cercare di farci sentire creando un danno economico. Quindi sul 26 noi abbiamo questa prospettiva qua. Poi ci saranno anche altre zone d'Italia dove ci saranno delle situazioni simili, tipo a Piacenza, dove è uno dei poli logistici tra i più importanti d'Europa e il più importante d'Italia. Ci sarà un altro blocco a Trieste, dove in questi giorni c'è tutta la questione legata alla Varsila, quindi con rischio licenziamenti e via dicendo. Quindi anche lì ci saranno dei momenti, diciamo, di blocco, oggi c'è lo sciopero degli aeroporti perché con la questione della legge 146 non si possono fare in concomitanza determinati scioperi, quindi si è deciso di fare oggi per gli aeroporti e così via. Diciamo che si sta usando la logica di bloccare quei posti, diciamo, di interesse nazionale. Ovviamente ha generalizzato, quindi lo sciopero è generale, scusami, quindi lo sciopero comprende anche il comparto pubblico, appunto passato dalle scuole, gli enti locali e via dicendo, quindi si cerca di dare questo carattere confederale tra i lavoratori, perché le ricadute, diciamo, di quelle che sono le scelte oggi cadono su tutti i lavoratori, nessuno escluso. Quindi l'idea del 26 sta proprio in questa roba qui.